Con il capitolo 10, a livello cronologico siamo tra la festa di Sukkot e la festa della dedicazione. La prima parte del capitolo, ossia i versetti da 1 a 21, è costruita attorno alla metafora pastorale dipanata in due immagini, quella della porta delle pecore e quella del pastore. La seconda parte del capitolo, i versetti da 22 a 39, prende invece le mosse dalla domanda dei giudei circa l'identità messianica di Gesù. E dopo un'introduzione ai versetti 22 e 23, che funge da cornice geografica e cronologica, si snoda in due sequenze. Una, ai versetti 24-34, applica le metafore della prima parte all'uditorio giudeo e l'altra, ai versetti 31-39, si costruisce sull'accusa di bestemmia che Gesù respinge, evidenziando la posizione incongruente, contraddittoria, dei suoi avversari. I versetti 40 e 42 costituiscono una sorta di epilogo. Gesù torna sulle rive del Giordano, dove la testimonianza di Giovanni Battista aveva dato avvio alla vicenda. Ora, nell'economia del tempo a noi concesso, ci soffermeremo sulle due immagini della metafora pastorale, mentre faremo solo delle osservazioni trasversali sulla seconda parte del capitolo. Cominciamo dunque dalla metafora della porta delle pecore, versetti 1-10. Questa metafora si colloca nella più ampia tematica pastorale, che recupera un motivo dell'Antico Testamento e si trova anche rielaborata con significati nuovi nei sinottici. Il passo, che ospita la metafora della porta, si articola in due parti. Nella prima parte l'immagine è sviluppata in generale. Ai versetti 1 e 2, due frasi parallele oppongono il caso di chi entra nel recinto delle pecore per la porta e quello invece di chi non vi entra da quella parte. Ai versetti 3 e 4, invece, si tratteggia una figura che ha familiarità con le pecore, mentre al versetto 5 si ritorna una figura estranea al gregge. Nella seconda parte Gesù applica a sé l'immagine. Ai versetti 7 e 9 si presenta per due volte come porta e chiarisce il vantaggio del passare attraverso di lui. Al versetto 10 propone invece il contrasto tra una figura ostile al gregge e sé stesso. Dunque, occorre innanzitutto comprendere, nel momento in cui Gesù si paragona alla porta delle pecore, quale accesso e quale uscita consenta questa porta. Al versetto 1 troviamo il termine aulè, che in lingua greca indica uno spazio libero, arioso, chiuso da uno steccato, può essere un cortile, un ovile, una stalla, una dimora, un'abitazione e anche un palazzo. Ecco, nel nostro caso evidentemente la porta dà accesso all'ovile delle pecore. Tuttavia, l'uditore informato può riconoscere l'accezione cultuale del termine, ossia il rinvio al recinto del tempio, al cortile del tempio, all'atrio della tenda del convigno. Ci domandiamo ora chi sia il soggetto destinato a varcare questa porta tanto in entrata quanto in uscita. Si tratta di andare a fondo di quell'espressione genitivale delle pecore, al fine di comprendere se la porta consenta di raggiungere le pecore oppure se sia quella porta che permette l'accesso da parte delle pecore. Ora, se Gesù si propone come porta di accesso all'ovile, il pastore è colui che vi accede e fuor di metafora trae giovamento dalla mediazione di Gesù, il riferimento alla salvezza, come si evince al versetto 9. Ecco, in entrata la porta conduce a questo aulè, spazio delimitato dal recinto che è luogo di protezione e di sicurezza, mentre in uscita permette di raggiungere il pascolo che è immagine di benedizione e di salvezza. L'immagine della porta dice molto del ruolo di mediazione salvifica di Gesù che si propone come tramite per condurre l'umanità a Dio e per portare all'uomo la salvezza di Dio. Il figlio è porta che apre il varco al padre per molti fratelli e al tempo stesso li custodisce dai pericoli del mondo. I versetti 11-21 sono invece centrati sull'immagine del pastore. In questo passo Gesù parla di sé come pastore ai versetti 11 e 14. Queste due occorrenze aprono a due approfondimenti della metafora a partire da due confronti. Il primo è costruito su un'opposizione. Ai versetti 11-13 Gesù si definisce pastore in contrasto con chi si prende cura del gregge ma pastore non è, anzi è mercenario, lo fa da mercenario. Il secondo invece è costruito su una somiglianza. Nella sequenza dei versetti 14-18 la relazione tra il pastore e le pecore è paragonata a quella tra Dio padre e Gesù. Prima di entrare nel dettaglio della figura notiamo come in entrambe le occorrenze il pastore si è definito con l'aggettivo calos che ha molte accezioni bello esteticamente, conveniente, in ordine a un fine, nobile, glorioso, d'animo, buono in senso morale e gradito a Dio. Ecco, il pastore è calos in tutti questi sensi. Egli irradia una bellezza la quale è espressione visibile di una bontà interiore gradita a Dio che ne è l'origine e conveniente per gli uomini che in qualche modo ne sono l'orizzonte. Innanzitutto il pastore ha una relazione con il gregge all'insegna della conoscenza come si evince dal versetto 14 e si approfondisce ai versetti 15 e 16 e poi del senso di appartenenza. Il pastore conosce le sue pecore. Il verbo greco usato indica un'attività conoscitiva non di tipo teoretico ma di tipo esperienziale. Il pastore, stando con il gregge, ha imparato a conoscerlo. Il fatto che gli chiami le pecore per nome dice il legame forte. Questa relazione è radicata in un profondo senso di appartenenza come evidenzia l'uso ripetuto dei possessivi. Egli chiama le sue pecore, conosco le mie pecore e così via. Ecco, questo senso di reciproca appartenenza non è da confondere con una relazione di possesso monopolizzante, di ripiegamento esclusivo sul proprio gregge. Al contrario, al versetto 16 leggiamo Ho altre pecore che non sono di questo ovile, anche queste io devo condurre. Ascolteranno la mia voce, diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Dunque il pastore deve fare da guida anche per le pecore di un altro ovile. Lo sguardo del pastore è aperto, pronto a estendersi ad altre pecore perché siano unite a quelle che sono già sue e divengano un unico gregge. E ora è importante notare un climax nell'impiego del verbo che è usato per indicare l'offerta della vita da parte del pastore. Al versetto 11 questo verbo rimanda all'idea di esporre la vita al rischio, non indica al morire, semplicemente lo spendere la propria esistenza per una missione che comporta dei pericoli e richiede coraggio. Al versetto 15 torna al medesimo verbo con il significato di mettere la vita a disposizione a vantaggio delle pecore. Non si sottolinea tanto l'audacia nel correre un rischio quanto piuttosto la generosità nel mettere tutto di sé a disposizione di altri istante dopo istante. Ai versetti 17 e 18 il verbo richiama l'atto di deporre la vita in una sorta di consegna alla morte e quest'ultima è già presentata in ottica di resurrezione. Offro la vita per riprenderla di nuovo. Al versetto 18 le precisazioni sottolineano da un lato la libertà nell'offerta della vita e dall'altro il fatto che la consegna della vita ha come fine il fatto di riceverla di nuovo. Perciò pastore autentico è colui che ha una relazione personale con ciascuna delle pecore del gregge, la sente sua, mette a repentaglio la vita a favore di tutto il gregge ma anche a vantaggio di ogni membro e di pecore e di altri ovili. Questo profilo del pastore assume tratti ancora più definiti e particolareggiati rispetto ad altre figure con cui è messo a confronto il ladro, il brigante, l'estraneo, il mercenario. Il rapporto profondamente personale del pastore con le pecore emerge dal confronto con l'estraneo. Quest'ultimo non è riconosciuto da il gregge. Le pecore non conoscono la sua voce e fuggono da lui. Ancor più chiaro è il confronto con il mercenario che non sente sue le pecore tanto che nel momento del pericolo coglie l'attimo e fugge. Il confronto della generosità del pastore con l'avidità del ladro e del brigante fa risaltare la gratuità del pastore pronto a dare tutto, anche la vita per il bene del gregge. Alla docilità di chi sa spogliarsi di tutto si oppone la brama di chi pretende di accapararsi ciò che vuole anche con violenza. Il confronto della relazione pastore-gregge con la relazione Gesù-discepoli-Gesù-Padre versetti 14 e 15 agevola la nostra comprensione. è istituito il paragone tra la conoscenza reciproca che lega pastore-gregge e quella che intercorre tra Gesù e i discepoli e il padre e il figlio. Come il padre conosce me e io conosco il padre io offro la vita per le pecore. Il dono della propria vita da parte di Gesù è identificato come un comando ricevuto dal padre al tempo stesso come un atto libero. io offro la mia vita nessuno me la toglie. La offro da me stesso. Il comando del padre non è dunque da interpretare come una regola quanto piuttosto come una rivelazione che contiene una responsabilità una missione salvifica. Tra questo comando e l'assoluta libertà di Gesù non c'è paradosso ma perfetta comunione tra il padre e il figlio. la libertà di Gesù nel corrispondere alla volontà del padre. Il potere che Gesù possiede deriva dalla sua comunione ed amore con Dio e per questo si configura come potere di esporre, disporre e deporre la vita fino a morire. Quanto segue colloca il discorso metaforico di Gesù nella cornice della festa della dedicazione al versetto 22 e nella cornice spaziale del tempio al versetto 23. Il momento e il luogo sono propizi per presentare Gesù come mediatore del padre e per mettere in guardia da chi si presenta come tale ma non lo è. I versetti da 34 a 40 chiariscono questa relazione e il rifiuto dei giudei mentre i versi 31-39 illustrano la relazione dei giudei sia da un punto la reazione sia da un punto di vista fisico espresso nel gesto della lapidazione sia da un punto di vista verbale espresso nell'accusa di bestemmiare pretendendo di affermare l'identità divina. Per sottrarvisi Gesù come leggiamo ai versetti 40-42 dovrà fuggire sulla riva del Giordano. Grazie a tutti i nostri spettatori